Bacchetta magica. Con la gestione in house com'è finita? Perché... Non ne so, confondiamo... Con la gestione in house com'è finita? In che senso? Si parlava al momento 5 stelle in campagna elettorale, parlava della gestione in house? Sì, parlava della gestione in house se affrontiamo questo problema, in realtà... È lo stesso problema. Parliamo di gestione in house dell'immondizia? Sì, 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 ma bisognerebbe sedersi e iniziare a calcolare un po' tutto. Quindi ancora due anni e mezzo non abbiamo... Per quanto mi riguarda non mi sono ancora seduto, anche perché sta partendo un nuovo servizio che in realtà costerà meno alla città e ci farà guadagnare molto di più. Dopo due anni e mezzo di mandato, dopo una vittoria elettorale plebiscitaria, dopo tante buone intenzioni professate ai propri elettori, l'amministrazione comunale 5 stelle di Favara, guidata dal sindaco Annalba, ancora non ha realizzato buona parte, forse la più importante, del programma promesso in campagna elettorale. È il caso, ad esempio, della gestione in house del servizio rifiuti. L'assessore Giuseppe Bennica, insediatosi da cinque mesi e dunque in fase di assestamento e di studio della realtà che è stato chiamato ad amministrare, ne ha parlato ieri nel corso della trasmissione incontri andata in onda, in diretta televisiva su Sicilia TV. Il tema del confronto, intavolato anche con gli stessi spettatori, è stato quello del nuovo calendario, partito il 29 ottobre scorso, riguardante il servizio di raccolta dei rifiuti. E parlando di nettezza urbana, il giornalista Salvatore Sorce ha colto l'occasione per chiedere all'assessore con delega al territorio ed ambiente a che punto la giunta Alba si trova per l'attuazione della gestione in house dei rifiuti, promessa due anni e mezzo fa. Da quello che ne è emerso, si dovrebbero muovere ancora i primi passi. Eppure siamo a metà del mandato che i favaresi hanno affidato ai Cinque Stelle. E dire che Alba ed i suoi precedenti assessori ne avevano parlato in lungo e in largo anche nello stesso studio dove ha avuto luogo la diretta di ieri. Con tanto di schema, tutto organizzato nei minimi dettagli, si parlava di rifiuti zero, di gestione in house e di un progetto che sembrava fosse già pronto e programmato per partire nel più breve tempo possibile. Che fine ha fatto questo progetto ad oggi non si sa. Ma se l'assessore Bennica, ricordiamo, ricopre la carica da soli cinque mesi e deve conoscere bene tutte le iniziative nelle quali è subentrato in etinere, lo stesso non si può dire della restante giunta Alba. Insomma, per la tanto promessa gestione in house dei rifiuti, con il sacchetto che da costo si doveva trasformare in risorsa, al momento Favara naviga a largo dal raggiungimento dell'obiettivo. Eppure il sindaco Alba, allora candidato, parlando in diretta, sempre su Sicilia TV ai favaresi, diceva a proposito della sua amministrazione. Non sono delle semplici persone che arrivano qua perché presi alla foga di voler conquistare Favara, di amare Favara, ripensare Favara, perché quei progetti, ahimè, finiranno il giorno dopo l'elezione, mentre noi abbiamo delle soluzioni concrete che il cittadino con coscienza deve capire. Poi spetterà il cittadino fare la scelta migliore per la propria città. E dopo due anni e mezzo, più di qualcuno si chiede se la scelta migliore sia stata fatta.